allora oggi siamo qui con Rossano ciao prima di tutto grazie per l'invito grazie per l'invito mi ha molto piacere essere qui a dialogare con voi stessi dicendo ancora qualcos'altro invece non volevo sì nel senso che come potete vedere siamo qui in questo studio che non è nostro ovviamente però volevo partire con questa domanda bomba che ho preso da un'altra intervista perché secondo me è incredibile noi sappiamo che dietro il nome di perturbazione c'è un grande studio nel senso c'è stata una riflessione interessante su tutto quello che è il nome perturbazione giusto allora diciamo che qui ci sono tanti rami che partono tanti rami che partono il primo è che noi siamo cresciuti da ragazzini in un periodo in cui andava molto forte la musica punk hardcore italiana proprio la scena italiana e c'erano un sacco di gruppi all'epoca che parliamo diciamo dei tardi 80 primi 90 che usavano il termine azione ezione alla fine quindi c'era non so contrazione infezione e negazione ovviamente che erano di torino di cui chiaramente eravamo non solo vicini ma anche un po fanatici e allora banalmente il nome è venuto fuori perché nessuno di noi sapeva suonare c'eravamo in testa questa cosa del fare le canzoni nessuno aveva studiato ancora nessuno strumento e ci trovavamo ovviamente raccontata così sembra una cosa insomma del 500 però ci trovavamo il pomeriggio dopo la scuola con il radioregistratore dove schiacciavi rec e play assieme con la cassetta a incidere delle canzoni contro i nostri professori del liceo scientifico e facciamo questa cosa qui e poi le riassumevamo dentro alcune cassettine e a un certo punto un giorno insomma Enrico il fratello maggiore di Tommaso il nostro cantante ha detto ah beh è bello questo progetto qui potreste chiamarvi perturbazione e noi diciamo tragicamente l'abbiamo preso in parola siamo andati avanti un po' e poi passano troppi anni e dici cosa fai di colpo cambio nome e altro alcuni lo fanno no che so i Blur per dire il gruppo inglese ha avuto diverse incarnazioni prima di chiamarsi così e noi invece ce l'ho sempre sempre tenuti dietro questo nome qua teoricamente dove essere un po' una presa in giro di quel mondo lì perché poi noi non abbiamo mai avuto un suono così violento anzi la verità è che però crei fraintendimenti e quindi col passare degli anni molti ti dicono ah io non vi ho mai ascoltati perché pensavo che voi faceste punk hardcore mentre noi diciamo sempre che la nostra musica è un po' anemica no? un po' più non è così virile e dall'epoca ce lo portiamo dietro la cosa buffa che mi è capitato anni fa forse stavo leggendo una vecchia enciclopedia è che anche le parole col passare del tempo hanno degli slittamenti di significato per cui noi quando diciamo oggi perturbazione pensiamo principalmente alle previsioni del tempo mentre una volta aveva un aspetto molto più emotivo il termine no? una perturbazione emotiva ecco prendendo il significato di com'era una volta più diffuso allora forse musicalmente per noi per quello che facciamo da tanti anni tutto torna ecco una cosa partendo dalle tue origini hai detto che hai fatto un percorso scientifico perché hai detto che prendevi in giro io ho fatto il liceo scientifico come anche diciamo che ho studiato liceo scientifico insieme a Tommaso il cantante io e lui da molto piccoli quando avevamo 15 anni abbiamo deciso per secerzo di fondare questo gruppo poi ci siamo separati perché lui è andato a studiare in un posto assurdo che magari molti neanche conoscono che si chiama Collegio del Mondo Unito United World College è il posto dove per dire ha studiato Kofi Annan quindi diciamo molti potenti del mondo vengono lì è un posto dove si studia in inglese che ha tante sedi in giro per il mondo lui per un po' studiato lì poi diciamo ha avuto un po' di turbolenze con quel posto quindi ci siamo separati e ci siamo poi ritrovati cioè non ci eravamo mai proprio separati però ci siamo ritrovati poi lui è tornato a Torino circa verso la fine del liceo e quindi sì sì noi abbiamo studiato al liceo Charles Darwin a Rivoli sopra il castello e tra l'altro un po' di anno una decina di anni dopo aver finito il liceo quindi aver preso la maturità abbiamo anche ambientato proprio un nostro videoclip di una canzone di metà degli anni zero in quel video dove noi interpretavamo i professori insomma siamo tornati sul luogo del delitto però qual è stata la tua intera formazione perché partire da un percorso scientifico per poi arrivare a fare comunque giornalismo sì infatti presentiamola anche un po' perché effettivamente per chi non lo conoscesse tu che come ti definiresti? perché se incasellare non è proprio il massimo no è molto difficile incasellare anche perché io non ho quasi mai avuto nella vita dei lavori dove entravo al mattino e uscivo la sera col massimo rispetto ovviamente per chi fa questo tipo di lavoro a me semplicemente è successo un po' per fortuna un po' credo per tenacia di non fare ora una vita molto diversa da quella che facevo quando avevo 20-21 anni avevo fondamentalmente due grandi passioni la prima era la scrittura e l'altra era il suonare musica sono cose che faccio da quando ho 18-19-20 anni adesso ne ho più di 50 le ho sempre portate avanti entrambi semplicemente è successo che con la tenacia col passare del tempo standoci sempre dietro entrambe si hanno diventato diciamo se non proprio due professioni sono diventate comunque la cosa che impegna le mie energie le mie giornate con grande piacere va anche detto che quando io ho fatto il liceo scientifico come milioni di italiani visto che ormai più passano gli anni ma continuano a esercitare le persone che fanno il liceo scientifico però poi a differenza di tanti miei compagni che hanno poi proseguito facendo studi proprio più scientifici soprattutto se lo fai a Torino il liceo scientifico tendenzialmente una parte significativa della classe finisce con lo studiare al Politecnico di Torino Ingegneria io invece ho cambiato radicalmente nel senso che negli ultimi anni di liceo mi ero molto mi ero appassionato in maniera estrema direi al mondo oltre che della musica della letteratura e quindi poi ho studiato lettere all'università e ho anche in realtà poi un piccolo primato perché a un certo punto a Torino ho aperto la scuola Holden dove si insegna narrazione ma molti pensavano si insegnasse scrittura e quindi io ho molto appassionato alla scrittura ho detto ai miei genitori guardate mi piacerebbe parcheggiare per qualche anno all'università vi giuro vi prometto che la finisco come poi ho fatto però vorrei provare a fare questa scuola e mi sono iscritto lì ero molto piccolo ho 22 anni il primo anno della fondazione della scuola all'epoca proprio i colloqui si facevano ancora con Alessandro Baricco quindi ho fatto proprio il colloquio con lui per entrare e non credo di sbagliarmi se dico che sono stato in assoluto il maschio più giovane a essere entrato a scuola perché lì ero in assoluto il più piccolo come ragazzo adesso ovviamente anche la Holden ha cambiato dimensione perché è diventata una struttura gigantesca rispetto a quella più artigianale di prima però ho sempre portato avanti queste due cose qui lo scrivere cioè leggere prima scrivere e e suonare ovviamente penso ci sia una correlazione tra queste due arti e soprattutto come hai trovato questa tua passione cioè come hai sentito questa è quella cosa che voglio fare che mi piace allora la correlazione c'è di sicuro la correlazione c'è di sicuro perché la popular music per come la intendiamo noi è fatta di canzoni sono dei formati narrativi di 3-4 minuti dove devi scrivere qualcosa quindi l'aspetto della scrittura mi è sempre piaciuto e comunque ce lo devi mettere nel fare musica su come l'ho scoperto io ovviamente l'ho scoperto in un certo modo credo che ognuno abbia il suo sono cose spesso molto banali cioè sicuramente una cosa che ha fatto tanto è il fatto che io e mio fratello siamo cresciuti in città a Torino e nell'età dell'adolescenza ci siamo spostati in provincia e in provincia di colpo quando arrivi a 15 anni così trovi un mondo che non è più quello che hai abitato prima prima c'era proprio la compagnia le frequentazioni si è un po' sradicato nel mio caso l'essere sradicato ha portato molto a cercare di raggomitolarmi su di me sulle cose che magari mi davano emozione all'epoca la musica sicuramente me ne dava tanta e quindi ho sviluppato molto in autonomia quella passione forse anche ecco magari quello lì può essere un tratto del carattere che ha impattato molto che l'ho sviluppato in modo un po' fondamentalista nel senso che mi sono appassionato in una maniera estrema forse anche insopportabile per cui un nerd della musica direi di sì non nel senso della musica suonata perché per esempio Chris mio fratello lui è veramente un grande nerd della musica è un grandissimo compositore di cose musicali produttore un bravissimo musicista però più di tutto quello che ruota attorno quindi il mondo della parole della storiografia i generi l'ascolto i dischi quindi tantissimo quello e poi vabbè c'è questo piccolo aneddoto che fa un po' ridere aspetta prima ringraziamo Chris che è il regista che ci ha fornito tutto quello che vedete è anche diciamo l'occhio tecnico del tutto no no poi forse fa un po' ridere una cosa che racconto all'inizio io qualche anno fa ho pubblicato un libro che si chiama scrivere di musica in cui racconto un po' cos'è questo mestiere scrivere di musica in base alla mia esperienza e il libro comincia proprio forse con la ragione per cui mi sono ossessionato a questo mondo io mi è successa una cosa banale che è successo che è successo a un sacco di persone ho preso la varicella che tra l'altro ci eravamo attaccati a vicenda io e mio fratello e la varicella in piena estate così da solo quando non c'è nessuno devi stare in casa non c'è la scuola mi aveva portato appunto a queste settimane di isolamento forzato in cui dicevo altro che leggere i giornali musicali cercare di ascoltare musica e poi un po' la volta quando le cose le porti avanti e poi sempre un po' tutto palestra no? le passioni che hai basta che le porti avanti le fai e come sollevare i pesi no? una volta 20 kg poi dopo 30 poi 40 è così è un percorso quasi automatico volevo chiederti se qualcuno volesse intraprendere il tuo percorso quindi di scrivere di musica hai fatto un libro apposta però un consiglio base se dovessi sceglierne solo uno da dare a qualcuno che vuole intraprendere questa carriera quale daresti? ovviamente questa domanda ha una risposta diversa a secondo del periodo storico in cui la fai oggi quello che mi verrebbe da dire è banalmente apri una parte pagina Instagram quanto più identitaria possibile e sii te stesso e cerca di essere più diverso dagli altri possibile se hai quella scintilla quel fuoco che ti accende e che ti fa fare quella cosa perché senti di avere qualcosa da raccontare cerca a tutti i costi di essere te stesso e diverso dagli altri e fai emergere questa cosa qui sicuramente un consiglio che varia dai tempi perché se noi pensiamo a dieci anni fa questa cosa poteva anche essere diciamo diversa dieci anni fa che non è ancora così era impattante ma molto meno il mondo dei social media magari avrei detto apri un blog e vent'anni fa trent'anni fa avrei detto fai la corte disperata a qualcuno che sta in un giornale e dipende veramente dal dal periodo storico cioè la tecnologia è il momento storico danno una direzione rispetto a quello che vuoi fare per cui oggi essendo tutte le nostre vite governate dallo scrolling infinito come si dice mi verrebbe da dire quello ma queste nuove tecnologie questi social hanno modificato sicuramente tutte le vite e molti stili di vita ma soprattutto siamo anche qui per parlare di musica hanno influenzato la musica in che modo e beh noi pensiamo che negli anni 60 il formato principale su cui si poggiava l'industria del disco era il singolo ok a un certo punto qualcuno ha capito brillantemente che spendendo un po' di più quindi invece di fare un singolo facendo un album si poteva guadagnare molto di più e quindi è nato il periodo degli album queste piccole decisioni cambiano fondamentalmente l'identità di un'intera disciplina artistica quindi se è successo negli anni 60 quello e tante cose sono successe dopo non si può non sapere che che ovviamente noi viviamo in un'epoca che è radicalmente diversa da quelle passate se io voi siete molto giovani ma se io vent'anni fa avessi detto ai vostri genitori guardate che domani verrà inaugurato un servizio dove tu a tutte le ore del giorno in qualsiasi momento e a titolo completamente gratuito potrai ascoltare tutto lo scibile audio del mondo molte persone non dico tutte ma la maggioranza avrebbe detto sì vabbè dai questa cosa è impossibile e oggi siamo in questo contesto qua quindi per forza è cambiato tutto poi da qui si aprono altri temi tipo viviamo nell'epoca della distrazione dell'attenzione ridotta quindi ovviamente questa cosa non può non considerare il fatto che la produzione di quasi tutto le canzoni della popular music devono avere certe architetture devono essere strutturate in un certo modo devono essere brevi perché si schippa con molta facilità quindi caspita se si è impattato ha impattato in maniera enorme a proposito di questo tu cosa ne pensi delle playlist so che a livello poi di streaming penalizzano molti artisti e ha proprio cambiato il modo di fruire della musica penalizzano tanti artisti ma ne avvantaggiano anche tanti altri quindi io secondo me su questi aspetti non non penso che si possa avere un atteggiamento pedagogico nel 2024 2025 è semplicemente il mondo è andato in quella direzione mi piace subirlo o no non mi piace subirlo però è semplicemente andato in quella direzione il concetto di playlist in maniera diversa è sempre esistito ci sono sempre stati gli album con più canzoni che erano delle playlist antelitter sulle cassette si facevano le playlist oggi si fanno le playlist alcune playlist in particolare come sapete meglio di me possono determinare il tuo successo in successo se ci sei o non ci sei quindi è una modalità di fruizione della musica io penso semplicemente che faccia parte del flusso della realtà e che avere un giudizio positivo cioè gratuitamente entusiasta oppure negativo del tipo ma non è più come una volta è una cosa che io personalmente non condivido funziona così e con quello bisogna fare i conti poi va anche detto che non tutti dobbiamo fare i conti con le stesse cose allo stesso modo per cui un DJ diciottenne sarà particolarmente ossessionato da quello Gilmour dei Pink Floyd non gliene importerà nulla perché continua a fare i dischi e vende ancora i dischi fisici quindi così come non è vero che la musica fisica sta bene non è neanche vero che sta così male perché se parli con alcuni che vendevano dischi tanto tempo fa Peter Gabriel perdiamo perdiamo che ha fatto un disco un paio di mesi fa che ha venduto tantissimo lui continua a vendere un po' di meno ma li vende a proposito di dischi fisici possiamo dalla regia vai momento sponsor momento sponsor eccolo qui questo è il nostro ultimo disco si è uscito da poco da qualche settimana da pochissimo ed è un disco che stava negli archivi nostri in qualche hard disk così un po' dimenticato ed è l'unica esecuzione fatta una quindicina di anni fa di questo disco di Fabrizio D'André un disco di D'André La Buona Novella molti lo conoscono per essere il disco sacro il disco religioso il disco dove c'è una canzone molto famosa di D'André che si chiama Il Testamento di Tito quella basata sui comandamenti per intendersi e noi l'abbiamo registrata tanti anni fa poi veramente per caso proprio per puro caso ha preso forma è nato e in pochissimo tempo è uscito ed è bello perché c'è proprio una totale differenza fra una cosa che hai in archivio e quindi esiste solo per te a quando la pubblichi poi e esiste per il mondo certo una cosa che volevo chiederti perché questa è una domanda che viene fatta a molti e non esiste una vera e propria risposta secondo te la musica è considerabile poesia perché se io penso al testo del testamento di Tito abbiamo una grande ricerca del testo e anche del significato poi non so prendo il pulcino bio che effettivamente non ha tutta questa profondità però ovviamente colgo la la provocazione ma il pulcino bio non ha ovviamente lo stesso scopo narrativo del testamento di Tito quindi perché molte volte ho sentito quella roba lì ma che testi certo capito però non è che quella cosa lì per forza deve avere uno scopo narrativo e tanta della popular music funziona anche in maniera filastroccosa se vogliamo e non per questo è meno efficace la semplicità non è per forza semplice è molto diverso da semplicistico questo è uno slogan che io ho sempre in testa si può essere semplici ed efficaci senza essere banalotti per rispondere alla tua domanda mi piace molto una cosa che dice sempre Francesco De Gregori sul fatto che sono due forme artistiche diverse per cui può avere la musica a un livello di approssimazione con la poesia e possiamo utilizzare l'aggettivo poetico nel senso che suscita delle emozioni delle visioni dei ragionamenti però è comunque una forma artistica radicalmente diversa se noi leggiamo i grandi poeti della storia immaginiamo di leggerli in solitudine per conto nostro se abbiamo una musica ce l'abbiamo in testa ma comunque non c'è magari li leggiamo ad alta voce questi testi o molti dei testi che più amiamo della storia della musica che siano di di Andrea o di Battiato o di John Lennon o di chi vogliamo in realtà non puoi immaginarli disgiunti dall'aspetto musicale che è anche la loro forza quindi tendrei a non sovrapporre le due forme artistiche aggiungo solo una cosa ogni tanto quando ci penso mi fa un po' impressione se noi dovessimo esprimere qualcosa di molto profondo rispetto alle nostre vite a qualcuno alla finanzata è molto probabile che useremo delle parole di un testo di una canzone e questo ti dice già il potere pazzesco che ha la musica nelle vite di tutti invece che usare parole proprie in un momento storico come questo in cui il fisico è tornato comunque a prendere vita secondo te il digitale riuscirà più avanti di nuovo a soppiantare il fisico oppure l'essere umano ha veramente così tanto bisogno di una copia fisica e quindi è così tanto legato alla fisicità per l'appunto ti rispondo con una domanda vai gli arretramenti tecnologici sono tipici dell'umanità o l'umanità procede per avanzamenti tecnologici boh finita qui no nel senso che è un caso questo del vinilo è un caso bellissimo bellissimo ma stranissimo molto faccio proprio fatica immaginare una forma tecnologica del passato che ritorna così in auge no la musica digitale la musica digitale anche qui purtroppo per fortuna è semplicemente un fatto che è accaduto quindi non si può avere un atteggiamento pedagogico secondo me è inarrestabile adesso magari fra dieci anni la consumeremo ancora in un altro modo consumeremo un termine orrendo scusate l'ascolteremo in ancora un altro modo anche se adesso forse consumeremo una cosa più sì purtroppo sì perché ci hanno messo in testa questa cosa dei consumatori però come diceva Pierpaolo Pasolini non è che una poesia se tu la leggi dopo è consumata non è che se la canzone l'ascolti si consuma rimane sempre con il suo valore quindi no penso che da lì non si tornerà indietro non si tornerà indietro chiaramente per chi è cresciuto come me con i formati fisici per chi ha una passione erotica per i formati fisici per chi possiede così tanti dischi come me e tante altre persone quella cosa lì fa impressione no? fa impressione essendo ancora parte di una generazione che accende lo stereo per ascoltare musica però dall'altro lato non si pone anche cioè voglio dire le metropolitane le palestre le strade sono piene di gente con le cuffie senza cavo che ascolta musica ed è così e e non per forza quello è brutto magari ascoltano musica la stessa musica che ascolto io solamente in un altro modo e rimangono toccati cioè la grande popolarità dei grandi artisti sulle piattaforme digitali cosa ci dice anche che sono immortali no? che lo stesso di Andrè continua a vivere con la sua forma sua forma poetica o di arte alta in un altro modo però però esistono ma sul fatto che che non credo che morirà mai il supporto fisico per fortuna questo non lo credo perché comunque anche se siamo piccoli e pochi siamo sempre una minoranza che c'è che compra i dischi fisici però insomma il segno è tracciato dall'altro lato uno mi dirà blockbuster una volta era una catena gigantesca che non si spessava che avrebbe mai chiuso e invece ha chiuso disintegrato io credo che se fosse aperto però blockbuster ancora ci sarebbe un po' di denaro lo farebbe lì sono dei modelli di impresa diversi si vede che i ricavi non erano così ricavosi quanto si pensava però le minoranze per fortuna ci sono sempre per fortuna una cosa che volevo aggiungere una piccola riflessione è sul tipo di cantante preferito che si ha o della band preferita secondo me era molto più comune avere un cantante una band preferita prima del digitale perché se io adesso penso alle possibilità economiche come l'opportunità di spotify di poter ascoltare tantissimi cantanti in tutto il mondo per soli 6 euro e 90 con gli sconti o 10 rispetto al andare in una disco dove si compra i dischi un mega sui dischi un mega sui dischi un mega sui dischi stavo uscendo discoteca dove vai a prendere una copia fisica a un certo prezzo e puoi ascoltare un solo artista magari ti può far affezionare anche di più perché sei lì tu che vai a scegliere mentre su spotify puoi anche avere un ascolto rapido e anche dimenticarti da alcuni artisti è possibile che non so adesso o anche in futuro ci siano dei nuovi artisti che possano diventare i preferiti dipende dalla tecnologia oppure dipende dai tempi ma secondo me la storia dell'umanità ci insegna che in ogni periodo vengono generati dei musicisti degli scrittori dei registi che a un certo punto diventano canone facciamo un esempio molto semplice gli Arctic Monkeys gli Arctic Monkeys sono usciti fuori come i diciottenni torno alla metà degli anni zero seconda parte degli anni zero adesso non hanno neanche 40 anni e sono diventati nel loro ambito ma non solo un super mega classico in un'epoca in cui si pensa che quei classici non possono più nascere cioè ormai gli Arctic Monkeys sono diventati un classico come lo sono i Led Zeppelin e Nirvana e forse ancora più degli Oasis per dire dei nomi banalmente rock per capirci quindi per me quella cosa succederà sempre è chiaro che il discorso che facevi sulla maggiore offerta implica un maggiore grado di disattenzione ma anche il nostro consumo è molto distratto e c'è un altro aspetto anche che non è del tutto negativo una volta il mondo della musica era molto più ideologico quindi i visioni steccati e quindi ognuno aveva le sue preferenze adesso è probabile che uno che ascolti i pinguini tattici nucleari ascolti anche gli Arctic Monkeys proprio perché tante ideologie sono cadute e quindi c'è anche una rarefazione è diventato più polviscolare l'ascolto tutto tende un po' di più ad assomigliarsi non perché si assomigli a priori ma le modalità di consumo sono talmente così dirompenti per le nostre vite per cui il livello di attenzione è più basso e poi sì c'è banalmente un discorso una volta per lo più pagavi per ascoltare una cosa quindi dove anche centellinare dove andava il tuo risparmio dove andava la tua attenzione ora siamo nel mondo dell'all you can eat non rispetto al cibo ma rispetto all'ascolto è questa cosa qui quando tu hai di fronte un buffet infinito provi un po' si ritornerà secondo te prima o poi a un ascolto più attento una visione più attenta dei film a una fruizione più no io penso di no sarà sempre peggio secondo te non so se sarà sempre peggio però penso che i mezzi di comunicazione il loro avanzamento ci dicono che se arriva la lavatrice non torni a lavare i panni a mano nel fiume e quindi l'avanzamento fa sì che le modalità di visione di ascolto di lettura io penso che questi beni non scompariranno mai cioè il libro fisico non penso che scomparirà mai però non venite a dirmi che la modalità di lettura di un romanzo oggi è la medesima di 30-40 anni fa perché 30-40 anni fa c'era il divano e forse la televisione oggi ci sono 5.000 notifiche di whatsapp che arrivano il telefono vicino qualcuno che ti chiama e quello impatta però no io personalmente non non credo alla modalità salvifica per cui adesso siamo in un periodo terribile ma tutto tornerà come prima credo piuttosto che continuerà a esserci un'integrazione dei supporti e dei mezzi di comunicazione che renderanno quello che facciamo oggi un'altra cosa sempre di più un'altra cosa dopodiché all'interno di questo scenario che io immagino come dicevo ci sono delle minoranze che per fortuna non moriranno mai per cui ci sarà sempre una minoranza di chi vuol vedere il cinema d'autore di chi vuol vedere il cinema in lingua originale di chi vuol comprare il padellone a 33 giri perché vuole ascoltare una cosa integralmente senza avere l'ossessione delle durate dello skip e per fortuna che ci sono le minoranze perché poi i grandi irregolari i grandi anticonformisti sono quelli che rendono il mondo un posto più interessante dal mio punto di vista tu prima hai parlato sia di scrittura che di musica e non a caso tu scrivi hai un magazine giusto? rumore ora come ora secondo te i magazine di musica incidono tanto sul panorama della critica tra virgolette anche solo dell'informazione o anche qui vige la regola dei social no non incidono più come una volta una volta incidevano pesantemente sul venduto fisico ora il venduto fisico si è diciamo polverizzato quindi non non hanno più quella ragione di essere di una volta dopodiché quello che io credo fermamente è che in uno scenario molto più ramificato perché una volta usceva un certo numero di dischi un certo numero di libri ora escono molti più dischi esce molta più musica è più facile farlo escono anche tanti più libri in questo scenario il singolo lettore ascoltatore è completamente sperduto io trovo penso sempre all'esempio banale di dell'essere umano che entra in una libreria un po' grande e prova a starci mezz'ora un'ora a un certo punto dici oddio mi sento mi sento sperso dalla quantità di uscite editoriali che ci sono io non so dove muovermi non so come muovermi che cosa vale che cosa non vale e qui entra in scena se vogliamo applicato all'editoria la figura del la parola mi fa orrore diciamo dell'influencer che io preferisco chiamare opinion leader o almeno una volta si chiamava opinion leader che è la persona con una sua forza e una sua identità per cui trovo che io parlo del mio caso ma non solo del nostro caso secondo me vale anche per altri giornali la ragione per cui vale la pena continuare a comprarli e leggerli è che intanto ti forniscono un riassunto magari con delle sbavature però credibile di quello che c'è di quello che esce nel mondo filtrato da persone che sono molto competenti che hanno anni di storia e di lavoro in quel settore lì e poi in alcuni casi in abbastanza casi come nel nostro ha a che fare con persone che hanno una visione molto identitaria e molto personale di quello che succede nel mondo che non è fanatica non è fanatica del passato non è fanatica del futuro ma è una visione che ha avuto modo di formarsi con il passare degli anni del lavoro e del confronto con i lettori e gli ascoltatori in questo senso sicuramente sembra un po' paradossale dirlo ma i social media hanno quasi fatto bene i giornali perché alcune hanno dato più beh alcune figure che abitano stabilmente i social media esprimendo il loro punto di vista diventano poi degli opinion leader che vengono seguiti volentieri su carta quando pubblicano articoli interviste libri come nel nostro caso e quindi è diventato anche un piccolo strumento di amplificazione del segnale del messaggio un'ultima riflessione sulle nuove tecnologie che stanno emergendo quindi stiamo per introdurre il discorso intelligenza artificiale nel mondo della musica il preferito di Davide in assoluto perché giusto pochi giorni fa è stato lanciato quantomeno in prova in America una nuova intelligenza artificiale che si chiama voice engine che si dice che con 15 secondi di audio si è in grado di riprodurre la musica delle scusa la voce la voce delle persone ovviamente questo avrà dei risvolti politici avrà dei risvolti economici tremendi e sicuramente potrebbe andare a colpire anche la musica e a questo riguardo tu pensi che l'intelligenza artificiale possa essere usata in maniera sapiente oppure verrà sfruttata e si potrà avere diciamo un grande calo per quelli che sono diciamo i diritti degli artisti o anche le opportunità in futuro potrebbero aumentare o diminuire allora proviamo a fare un discorso di carattere più ampio da quando è apparso il famoso chat GPT4 in poi la domanda che mi sono sempre posto è quali sono le porzioni di mondo dove questa cosa non andrà ad impattare non me ne sono venuti in mente tante forse in questo momento direi la cucina forse direi il settore infermieristico e quindi in generale quello sanitario ma sappiamo benissimo che poi le macchine si stanno evolvendo poi queste macchine no più gli fai domande più tu fai modo di nutrirle più imparano più apprendono più cose sanno fare ovviamente il mondo il mondo culturale informativo dei media è quello che per primo viene colpito perché è anche quello più facile da replicare no insomma non devo spiegarvi sapete bene come funziona basta che una volta che tu dai da mangiare quelle due tre notizie escono fuori delle cose sbalorditive e tra l'altro poi molti insomma insistono su questo fatto che non sono corrette sì sì ma un po' alla volta lo saranno sempre di più quindi il punto della sostituzione di certi mestieri completamente obsoleti io credo che sia centrale ma senza arrivare a chat GPT voglio dire pensiamo banalmente alla vita che facevano i vostri genitori quando andavano in banca qualche tempo fa il fatto che oggi chiunque debba fare operazioni bancarie non ha più bisogno dello sportellista ma può fare tutto quanto da casa telefono qualsiasi tipo di operazione per cui andrà sicuramente a impattare tantissimo tantissimo dal punto di vista di chi crea testi come nel nostro caso facendo il giornale questa cosa temo che sia già all'ordine del giorno infatti mi è molto piaciuta la riflessione del titolare di Yux che è questo portale di abbigliamento che dice sempre di più sarà importante far capire al mondo che una cosa è fatta da umani made by humans invece che come etichetta come forma artigianale per quanto riguarda la musica credo che sia sotto gli occhi di tutti ovviamente noi per gioco abbiamo provato a far mangiare all'intelligenza artificiale qualche giorno fa la musica di Joy Division per chiedere di crearci dei pezzi su quello stile ed è spaventoso sono identici sono identici per gioco abbiamo fatto alcun paio di recensioni di recente per giocare con i lettori con l'intelligenza artificiale sono fatte molto bene quindi lo scenario che io mi immagino è che chi detiene piattaforme facilmente potrà aggirare il concetto del diritto d'autore se non incassandoselo direttamente andando a creare forme artistiche forme d'ascolto su cui non c'è da pagare dei dazzi al contrario tutto viene intascato tanto insomma quello che un po' a tutti noi piacciono le stesse cose nei vari ambiti quindi una volta che noi settiamo un modello di un certo tipo quel modello molto facilmente con i giusti investimenti è destinato a ottenere successo ottenere popolarità e a portare dei guadagni e dei ricavi a chi a chi lo gestisce senza dover passare per la mediazione dei diritti d'autore questo è lo scenario che vedo che non è stupendo ma tornando al discorso delle minoranze ci sarà sempre comunque una minoranza che è appassionata dell'originale che fa ridere dire l'originale nell'epoca della riproducibilità di qualsiasi cosa ma insomma ci siamo capiti e le case di produzione e di distribuzione avranno comunque un grande potere in più rispetto a quello che già hanno adesso ad esempio seguivo un video di un ragazzo che parlava di musica e diceva che sostanzialmente le case di produzione una volta si occupavano anche molti anni addietro si occupavano anche del merchandise del fatto di farti spostare da un posto all'altro per il tournée dalla distribuzione dei vinili alla pubblicità della band e ora fanno molto meno ma hanno molto più controllo sull'artista tant'è che ci sono diversi artisti tra cui Kanye West che cito sempre tra i miei amici che attualmente si sta un po' ribellando a questa cosa dicendo cerchiamo di non dare più soldi a queste società e diventiamo indipendenti perché effettivamente noi abbiamo la stazza per poter essere indipendenti e creare delle etichette nostre che insomma controlliamo solo noi Kanye West indubbiamente lo può fare qui è il famoso paradosso che si racconta sempre nell'ambito della storia musicale di In Rainbows dei Rediod chiaramente quando i Rediod hanno fatto questa mossa di fuoriuscita dalle logiche tradizionali se vogliamo corporate della discografia avevano già un livello di popolarità così alto da far sì che la macchina guidata da loro o comunque insomma degli intermediari per conto loro potesse andare avanti tranquillamente e infatti continuano ad essere uno dei più popolari gruppi musicali del mondo questo è un discorso secondo me su cui è difficile avere delle opinioni definite perché se da una parte noi vituperiamo la contemporaneità dall'altra parte dobbiamo anche riconoscere che sono nate delle nuove professioni che prima non esistevano e quindi è un po' come immaginare quello che trasportava la frutta col carretto e che poi ha cominciato a farlo con un mezzo con il motore termico e che poi diventerà altro sono logiche evolutive darwiniane dell'umanità si cambia anche se per caso di produzione non so se tu intendessi le discografiche i management io credo che oggi sia tutto molto che sarà sempre tutto molto più incrociato una volta in fondo l'artista faceva un disco c'era una casa discografica che guadagnava da quel disco quindi la casa discografica mettiamo la Sony aveva tutto l'interesse di far sì che dei dischi di Michael Jackson si parlasse più possibile affinché vendendo tanto potessero avere grandi ricavi c'era chi si occupava del live già ora è cambiato tutto la parte live è diventata molto più pronderante in termini di incassi quella discografica meno però il live esiste anche molto in funzione dal tipo di engagement che riesci a creare quindi lì dietro c'è qualcuno che fa un mestiere strategico affinché tu possa sempre apparire bello scintillante simpatico dal vivo quindi credo che con la riduzione del peso della musica registrata e l'aumento del peso del racconto per immagine della musica live e anche dell'aspetto di sfruttamento commerciale di certi volti cose che sono sempre esistite ora esistono ancora di più lo scenario sia diverso sia destinato a cambiare e nasceranno nuovi mestieri dove probabilmente il manager vecchio stampo oggi invece dovrà gestire tutta una serie di directory in cui forse è brutto dirlo la musica registrata finisce con l'essere l'aspetto finale o meno impattante di sicuro dal punto di vista economico ti faccio ancora un'ultima domanda vai immagina come diceva John Lenn di avere vent'anni ti sei appena lavorato in lettere hai scoperto la tua passione per la musica hai fatto anche la scuola Holden quale consiglio daresti se potessi darne anche qui solamente uno non vorrei sembrare paternalista o altro perché tante volte dico se tornassi indietro e mi laurassi mi direi ma non potevo fare chimica io all'università però a parte questo quello che mi sento di dire è che se sei nella condizione che hai studiato quelle cose lì vuoi fare quella roba lì tu sei dannato purtroppo sei dannato e quindi devi accettare che un po' devi startene fuori dal mondo un po' devi startene per conto tuo senza diventare ovviamente un monaco però lavorare l'unica cosa che puoi fare è lavorare su di te su quello che ti piace e che pensi di avere di speciale da raccontare al mondo in fondo scrivere può essere una mostruosa perdita di tempo una forma noiosissima per trascorrere l'esistenza però è anche una cosa è anche un po' un'attività che tu fai solo con te stesso e quindi magari sei appassionato di cinema ma difficilmente diventerai Nolan perché non avrai mai quei budget da gestire nella vita o Kubrick mentre se scrivi il sogno di poter diventare Philip Roth o Lester Banks lo puoi sempre conservare perché sei tu che ti devi allenare con te stesso e poi alla fine magari ci sta anche che tu pensavi di essere speciale invece ci sono centomila altre persone più speciali di te fa parte delle cose che capitano fa parte della vita semplicemente e quindi banalmente mi viene da dire allenati leggi leggi tutto quello che puoi qualsiasi cosa anche i bugiardini sono utili dell'aspirina leggi e scrivi se vuoi scrivere poi chiaramente nel caso della musica suonata vale invece un po' un discorso contrario che quello del cioè non un discorso contrario altro quindi suona suona tanto cerca di suonare tanto di provare tanto se penso alle cose che abbiamo fatto noi dal vivo cose allucinanti tipo di esperienze che abbiamo però poi alla fine sono sempre servite sono sempre servite quando fai le cose scrause fatte male disgraziate con il piatto di affettati sull'orecchio di quello che passa poi quando arrivi magari in un palco più normale tutto è più semplice quindi non so appunto non voglio essere paternalista però per me la questione dell'isolamento e del provare a lavorare su di sé la vedo forse come l'unica cosa possibile o forse perché io amo tanto chi è così mi piace tanto chi ammiro tantissimo chi vive lavora come Haruki Murakami che è un scrittore giapponese che è molto così è un lui sì che è un monaco però penso che i risultati si ottengano così poi invece c'è anche la modalità Bukowski che è altrettanto apprezzabile di chi invece vive la vita profondamente racconta quello e io non mi sento tanto Bukowski quindi mi è più da considerare la parte più nerd tra virgolette tu prima hai parlato anche di mi raccomando suonate no se volete fare questo lavoro bisogna imparare a suonare per te imparare a comporre è importante immagino proprio musicalmente al di là delle lyrics della voce allora ci sono tanti musicisti bravissimi che sono autodidatti anzi magari anche sono più bravi di altri io che non sapevo come cominciare sono andato a studiare però non ecco ho studiato come un pazzo ho studiato un po' di anni batterie e tutto quindi io non compongo la musica in sé ma soleggere lo spartito della batteria ecco che è un'altra cosa rispetto a quello musicale comporre e lavorare in studio e provare è un'attività sfinente spesso anche massacrante perché tu puoi provare dieci idee e non ne va bene una oppure magari vedetevo proprio l'altro giorno questo documentario su un vecchio disco di nada con cui abbiamo fatto tra l'altro questo live di D'Andrea in cui lei raccontava di una sua canzone anche abbastanza famosa di 40 anni fa che poi come è stata incisera tuttora non le piace in effetti l'ascolti di CA l'hanno bloccata così e non funziona perché è meno brillante di altre però sì quello è fondamentale se penso soprattutto al anche alla quotidianità di Chris di mio fratello vedo che il semplice fatto che lui abbia ogni giorno comunque in un modo o nell'altro la mano sulla chitarra fa sì che ha generato una grande facilità di composizione anche una grande abilità compositiva quindi quello è fondamentale considerato che oggi esiste la tecnologia ci ha fornito una modalità di compositiva molto diversa che non è secondo me né più bella né più brutta è semplicemente diversa per cui basta veramente saper maneggiare certi tools e tendono a toglierti un sacco di lavoro il che non è che sia necessariamente negativo anzi magari neanche te ne accorgi visto ormai la la perfezione della tecnologia dal tipo di dalla modalità old school da cui veniamo noi che è quella di un'epoca diversa in cui c'era la sala prove e c'erano i concerti che capitavano che si facevano per noi c'è stata solo quell'esperienza lì questo non significa che sia la più la più giusta per riassumere secondo me chi ha grande facilità compositiva e chi conosce bene lo strumento crea cose più belle ecco non ho mai creduto il contrario forse perché mi ricordo che quando stavo finendo l'università la mia professoressa mi diceva sempre impara a fare le cose difficili poi quelle facili vengono in automatico è il contrario che non succede mai io volevo arrivare proprio lì cioè che un artista che conosce a 360 gradi proprio anche la musica al di là di saper leggere proprio a livello di composizione di mettersi lì a sperimentare vale cioè non è che vale di più ma diciamo ha più una una capacità di gestire di gestire quello che fa dal mio punto di vista è indubbiamente così noi prendiamo soltanto molta della musica pop contemporanea se noi ci mettiamo a smontarle prendiamo gran parte delle canzoni pop di successo italiano e le portiamo allo zecchino d'oro ci stanno perfettamente dentro sono tutte cose che funzionano in maniera un po' filastroccosa con due o tre giochini di parole molto bambineschi fanciulleschi ora che molta musica deve essere così va benissimo è sempre stato così anche i Beatles cantavano obladì obladà che però questo debba portare a un tipo di mononeurismo musicale per me è inaccettabile prendiamo chi compone musica pop di facilissimo ascolto i Coldplay se guardo a Chris Martin guardo a un formidabile compositore i Coldplay cioè io non riesco più a sentirli da forse 15 anni voglio dire ti suonano troppo ridondanti ma no fanno musica da autoscontri per me non mi interessa non mi piace non ci trovo niente ok se penso che invece li ho amati molto all'inizio però per esempio lì è una figura da sola che è in grado di suonare il pianoforte suonare la chitarra comporre col piano e con la chitarra cantare con quella voce che è fortemente riconoscibile e padroneggiando tutto creando delle grandissime melodie perché poi il fatto che una canzone sia cantabile o memorabile non significa che abbia una grande melodia non è sinonimo assolutamente nel suo caso che padroneggia molto quello oppure venendo in Italia prendiamo Cesare Cremanini che è una figura lontanamente simile o paragonabile ecco chi padroneggia molto bene la conoscenza dello strumento e compone e canta sicuramente ha davanti a sé una grammatica molto più ampia e dal punto di vista puramente dell'efficacia compositiva hai di fronte delle canzoni memorabili nel senso che si ricordano per la forza della melodia e non per i giochetti quindi padroneggiare è certo che è fondamentale i giganti tendenzialmente padroneggiavano John Lennon era così Lucio Dalla era così Bowie così quindi Kurt Cobain era così e ci sono ancora quelli bravissimi Elton John è stato così ce ne sono tanti no per fortuna però sì forse io mi illudo che questa cosa del merito abbia un peso però se lo chiedi a me io ti dico che per me è così allora Ross grazie mille grazie mille a voi per l'invito è stato veramente un piacere alcune domande mi hanno messo seriamente in difficoltà vi ringrazio tanto spero di non essere stato trombonesco e ringrazio ancora il mio fratellino che ci ha seguito in tutto grazie l'aspetto tecnico in modo formidabile come sempre anche perché noi avevamo quattro spiccioli siamo arrivati qui e ci hanno trasformato il podcast e poi diciamo una cosa che non abbiamo detto all'inizio ma che figata è il nome del podcast i cicles è stupendo grazie mille ragazzi ricordatevi di iscrivervi da ma non fare lo youtuber del 2013 abbiamo anche like su spotify in cui siamo molto più cacciaroni qua ci teniamo con posti la call to action ci vuole ci vuole ci vuole vai rimanete appiccicati perché nel prossimo episodio non lo so parleremo di qualcosa rimanete appiccicati e lo scoprirete ciao ragazzi ciao